La storia del signor Romano, un 84enne di Montemignaio e del piccolo Jafar, un bimbo non vedente di origine macedone, aveva colpito tutti e fatto il giro d'Italia, sino ad arrivare a Palazzo Chigi, dove oggi, nel giorno della festa dei nonni, l'uomo ha ricevuto il riconoscimento di nonno dell'anno. L'anziano, infatti, per mesi, ogni mattina ha accompagnato il bimbo a scuola, 60 chilometri lunghi tornanti della consuma. Il babbo del bimbo fa il falegname, la mamma non ha la patente e nel paese non era previsto l'accompagnamento per disabili. Così il signor Romano non ci ha pensato due volte e al piccolo, proprio come fosse suo nipote, ci ha pensato lui. Oggi il riconoscimento della Fondazione Senior Italia Federanziani per il signor Romano, per il suo spirito di solidarietà, per la sua dedizione nell'aiutare il prossimo, per la sua tenacia senza età e per aver dimostrato, col suo esempio eccezionale di affettuoso altruismo, la sconfinata forza del grande cuore dei nonni. Dunque, un importante riconoscimento per l'84enne, proprio nella giornata in cui si festeggiano tutti i nonni, sempre più colonne portanti delle famiglie. Sei nipoti. Qual è la cosa più bella dell'essere nonni? Cosa vuol dire essere nonni? Averne sei e averli sempre tutti intorno è la cosa più bella. E' il futuro. Ma se lo immagina, in questo mondo non è l'ideale in questo momento, ma è sempre la cosa più bella. E' sempre la cosa più bella. Come sono cambiati i nonni oggi rispetto magari a tre? Oggi i nonni sono quelli che, meno male che sono in pensione, che hanno tutto il tempo da dedicare ai nipoti, ai figlioli, alla casa, a ogni cosa. L'orto no, ve lo garantisco. Senza nonni ci andrebbe avanti oggi? In Italia, male. Ma oggi i nonni sono una figura molto importante per i ragazzi. Perché? Perché noi i genitori andiamo al lavoro e la maggior parte rimangono con i nonni. Ecco, senza nonni infatti cosa si farebbe? Non si farebbe o si farebbe male. Io dico questo, ho rallevato tre nipoti, quindi più importante di così. Qual è la cosa più bella dei nipoti? La presenza, l'affetto, tutto quello che ti danno, che ti possono dare. Sono cambiati i nonni negli ultimi anni? Ma io in casa mia no, sinceramente mamma ha guardato i miei figli quando ha potuto. Qua si farebbe oggi senza nonni? Le mamme, i papà, come farebbe? Anche i figlioli che non ci accontentano mai.